Grazie innanzitutto, un ringraziamento all'associazione Open Giuda d'Italia per questa splendida giornata. Noi cercheremo di essere molto celeri soprattutto per non tediare i resistenti perché è stata una lunghissima e interessante giornata e vediamo di concludere anche con qualcosa di più divertente non che sia importante. Noi ci occupiamo di Web Mobile GIS, questa parola un po' coniata male, coniata su due piedi, praticamente trasportiamo tutto quello che è attualmente il Web GIS su mobile, quindi è come la chiamiamo noi una nuova frontiera di pubblicazione. Se pensiamo a tutto quello che attualmente è il Web GIS, quindi in termini di pubblicazione di dati territoriali, per tutto quello che abbiamo visto in questa ultima sessione che è importante quando si parla di operazioni sul territorio o addirittura anche interventi in emergenza, portare tutto questo da una piattaforma desktop a una piattaforma mobile come vedremo non è una cosa semplice per alcuni aspetti peculiari e soprattutto non è una cosa che tutti si possono improvvisare perché bisogna tenere, e noi cercheremo anche di spiegare a chi vuole avvicinarsi a questo settore, bisogna tenere in considerazione alcuni aspetti molto particolari. Beh, queste prime slide, non conoscendo le slide o comunque le presentazioni precedenti, le salterei perché comunque ampiamente ne abbiamo parlato su quello che sono gli open data o comunque i dati cartografici, mi vorrei soffermare un attimino su quello che è attualmente, per quanto riguarda gli utenti, non tanto per i tecnici del settore, inteso per un Web GIS. Magari chi sa cos'è il Web GIS sa che è fatto con un'infrastruttura molto più o meno complessa, quindi qui a sinistra vediamo un piccolo schema di quello che potrebbe essere, quindi ci sono dei server, ci sono delle interfacce, c'è il collegamento cloud oppure tramite altri sistemi, e poi c'è l'utente finale che ha la necessità di visualizzare l'informazione territoriale. Chi invece è l'utente, il cittadino che vuole conoscere l'informazione territoriale sa che un Web GIS è semplicemente un sito internet chiamato volgarmente o meno geoportale, dove può andare a visualizzare un po' come ha fatto o ha imparato a fare con servizi come OpenStreetMap o GoogleMap, la cartografia istituzionale. Quindi ecco che questo mondo deve essere rivisto secondo noi, secondo anche la politica che stiamo portando avanti, e soprattutto può essere rivisto in una chiave nuova. Quello che attualmente sono i Web GIS è semplicemente la pubblicazione di una cartografia, quindi semplicemente una versione leggera, light, di un GIS portato su un sito internet, quindi su un visualizzatore con diversi linguaggi che poi vedremo anche nel dettaglio, con diverse anche metodologie informatiche, quello che pensiamo noi è invece che il Web GIS debba trasformarsi e debba fare un salto evolutivo anche per quanto riguarda le potenzialità e lo sviluppo. Ecco che parliamo anche di costi, non inteso, veramente con un costo diciamo di carattere economico, ma costi in termini di qualcosa che non si fa oggi ma che si potrebbe fare. Ecco che, perdonatemi la foto un po' anche divertente, i limiti che comunque ci sono volendo lavorare in questo settore, è che per avere un Web GIS di qualità, comunque delle pubblicazioni di dati territoriali di qualità, bisogna avere quantomeno un'adeguata infrastruttura hardware, io mi permetto semplicemente di fare un appunto, nella prima sessione mattutina abbiamo visto tanti enti pubblici che pubblicano dati, open data, hanno grandissimi sistemi di pubblicazione, si vantano anche di aver pubblicato centinaia e centinaia di dataset, però chi poi come noi o come le aziende lavora con questi dataset si rende conto dei limiti infrastrutturali che hanno alcune piattaforme e quindi vero è che sono disponibili tantissime informazioni e tantissimi servizi, però poi all'atto pratico di chi ci lavora, chi ci deve lavorare o chi vorrebbe fare operazioni come le nostre o come quelle che abbiamo visto nelle relazioni precedenti, ha enormi difficoltà. Confessiamo che molte delle nostre applicazioni ancora non le vogliamo pubblicare pur avendo praticamente coperto tre quarti del territorio nazionale in termini di cartografia istituzionale, non le vogliamo pubblicare perché i server istituzionali che sono presenti non sono all'altezza di una pubblicazione che è comprensibile da parte di un utente che non ha idea di quello che c'è sta dietro e quindi è un problema di fondo. Ovviamente c'è poi un problema legato agli utenti che devono avere dei dispositivi con una banda adeguata e ovviamente è la cosa più importante che bisogna ripensare le piattaforme di pubblicazione. La stragrande maggioranza degli utenti del mobile web GIS non ha la minima idea di quello che sia tutto quel mondo che sta seduto in plateo oggi o comunque nel mondo di chi opera nel GIS e non ha voglia minimamente di interessarsene. Questo dobbiamo anche farne atto e prendere coscienza. La gente ha voglia di vedere la mappa, voglia di vedere l'informazione nel modo più semplice possibile e fare le operazioni di interrogazione dei database, non le chiamiamo, ma di ricerca, le chiamo un utente, in maniera semplice e intuitiva. Quindi bisogna completamente rivoluzionare anche il modo di pensare, le nostre applicazioni, il nostro modo di lavorare da informatici o comunque da operatori della pubblicazione del dato territoriale. E quindi poi ovviamente questo mondo si scontra o si incontra con tutto quello che è la diffusione, la capillarizzazione dei dispositivi mobile. Qui c'è una foto della famiglia digitale, ormai c'è il bambino, il padre, la madre, tutta la famiglia che è sempre connessa, ha sempre la disponibilità di agire con dispositivi ormai molto potenti che consentono oltre a un'elevata connettività, una capacità di posizionamento discreta a seconda dell'applicazione che si vuole fare e comunque prestazioni hardware che fino a qualche anno fa erano impensabili, non che siano eccellenti le prestazioni hardware di un dispositivo mobile, però consentono già oggi la possibilità di offrire delle soluzioni evolute in questo settore. La domanda appunto è questa, è possibile quindi parlare di web mobile GIS solo se secondo noi sono presenti queste tre componenti. Un hardware adeguato, ma quando parlo di hardware non parlo assolutamente dell'hardware dell'utente, l'hardware adeguato è l'hardware dell'ente che pubblica il dato o comunque di chi prepara la piattaforma perché è l'hardware che si deve adeguare alle esigenze degli utenti. Non possiamo pensare di fare web mobile GIS quindi ad una utenza molto capillarizzata nel settore confinandola solo a chi possiede determinati dispositivi di una banda o comunque di una fascia di prezzo elevato. Dobbiamo anche fare delle infrastrutture che sono in grado di servire anche a dispositivi di fasce di prezzo meno elevate o comunque delle infrastrutture che possono adeguarsi loro alle esigenze degli utenti. Una possibilità di utilizzo delle applicazioni che deve essere completamente user friendly si dice nel senso che non si può pensare che l'utente di un web mobile GIS abbia elevate conoscenze nel settore cartografico o allevate conoscenze del settore del GIS o addirittura anche del web perché gli utenti principali di chi consulta le mappe sui dispositivi sono anche utenti come si diceva poco fa utenti che non hanno la minima idea di quello che sia la topografia, la cartografia e non hanno voglia di conoscerlo nel senso che bisogna accettare questo concetto. Sono persone che hanno voglia di informazione e questa informazione deve essere data e offerta tramite queste pubblicazioni direttamente in sito. Alla fine queste tre componenti quindi la capacità di chi pubblica i dati geografici, la possibilità di utilizzo da parte degli utenti e soprattutto la consultazione che deve essere georiferita da parte di tutti. Come progettare o comunque come pensare un web mobile GIS? Queste sono le tre secondo noi correnti, diciamo tre cannelli principali. Bisogna ripensare completamente l'input. Io sfido chiunque a visualizzare con un tablet qualsiasi, Apple o con un device Android, un sito, un web GIS classico, quindi magari il Geoportale Nazionale, sfido chiunque a trovarlo intuitivo attraverso l'input di un touchscreen. E quindi ecco che bisogna rivedere completamente come deve essere pubblicato sul mobile la nostra cartografia, la nostra informazione territoriale. Proprio perché è inutile pensare di inserire 3000 pulsanti, 400 funzionalità tutte insieme in un unico schermo come invece si fa con il web GIS perché comunque è un input diverso, hai il mouse, hai la tastiera, puoi scorrere, puoi dare tanti input. Mentre qui bisogna fare un po' un sacrificio, ma non per questo non si possono ottenere altre soluzioni e comunque condividere con quello che è poi l'input essenziale che è lo schermo touch dei dispositivi e quindi solo un tipo di input. La grafica deve essere essenziale, ma per essenziale non significa che deve essere scarno, ma deve essere ovviamente una grafica anche accattivante che deve dare comunque l'idea di tutto quello che si sta facendo. Ora l'ultima cosa che secondo noi è fondamentale per quanto riguarda questo settore è che bisogna avere questo tipo di impostazione. L'interfaccia, allo stato dell'arte, diciamo che la padrona la fanno le interfacce client server, non possiamo pensare di far scaricare i dati sui dispositivi degli utenti, o meglio, certi dati magari li possiamo far scaricare, ma non possiamo di certo far scaricare moli di dati cartografici su un dispositivo per consultarli offline, o comunque si può fare solo su certi dispositivi. Quindi la maggior parte dei casi di queste applicazioni che noi facciamo opera su un'architettura client server. Bisogna gestire le interoperabilità e qui ne parleremo anche più avanti. Bisogna ovviamente permettere agli utenti di crearsi loro le proprie mappe. E quindi tramite anche una gestione tra diversi dati cartografici che vengono riproiettati, gli utenti possono andarsi a costruire nell'applicazione che forniamo la mappa che più gli interessa. Un po' quello che succede in un webgist normale, però ovviamente con modalità del tutto nuove e innovative. Adesso passo la parola al dottor Rironi che ci parlerà anche delle librerie informatiche che si possono utilizzare in queste piattaforme. Io ringrazio anche da parte mia per il riconoscimento molto importante che abbiamo ricevuto quest'oggi dall'associazione Obegio Data. Volevo sottolineare innanzitutto un aspetto, qua in questa slide vengono mostrate in buona sostanza un breve elenco di quelle che sono le librerie che utilizziamo per lo sviluppo delle nostre applicazioni ed è proprio su questo punto che mi volevo soffermare perché abbiamo parlato, abbiamo discusso tanto dell'importanza dell'utilizzo dei dati geografici open e noi riteniamo che questo aspetto sia molto importante per lo sviluppo di queste applicazioni, ma noi abbiamo già fin dall'inizio immaginato la nostra linea imprenditoriale come basata non solamente sull'utilizzo di dati geografici aperti ma anche sull'utilizzo di piattaforme software e di librerie di programmazione che fossero anche se stesse delle librerie aperte. E nella fattispecie per lo sviluppo delle applicazioni che abbiamo reso disponibili attraverso i market di applicazioni per dispositivi mobile, annoveriamo innanzitutto le librerie open layers che già sono ampiamente utilizzate per lo sviluppo di applicazioni web GIS ma che noi abbiamo adattato agevolmente per lo sviluppo di applicazioni nello specifico di carattere mobile. Abbiamo utilizzato anche le jQuery mobile che come le librerie open layers sono basate sul framework sulle librerie javascript e che ci permettono quindi di costruire in alcuni casi delle interfacce user friendly particolarmente agevoli per la navigazione e per l'utilizzo delle applicazioni mobile che abbiamo sviluppato e in alcune circostanze abbiamo utilizzato qualora è stato necessario map server, anche questa un'applicazione chiaramente rilasciata sotto licenza open che ci permette nel qual caso ne avessimo avuto bisogno e in alcune situazioni ne abbiamo avuto bisogno di poter gestire autonomamente i nostri server cartografici. In futuro tra l'altro prevediamo di utilizzare anche le librerie spazialite che ci potrebbero permettere di poterci interfacciare agevolmente anch'esse librerie open source con svariati formati di rappresentazione delle cartografie. In alcuni casi e vedremo ora anche in quale caso specifico abbiamo utilizzato le librerie javascript rese disponibili da google per la visualizzazione delle librerie, della visualizzazione delle mappe denominate appunto google maps e non l'abbiamo indicato in questa slide ma abbiamo anche più volte utilizzato open street map come base cartografica di alcune nostre applicazioni web. Ora io in realtà entrerò più nel merito delle applicazioni che sono state selezionate dall'associazione open geodata per il riconoscimento che ci è stato rilasciato proprio a quest'oggi. Su questo punto ne ho già parlato, in buona sostanza open layers ci permette di poterci interfacciare in maniera agevole con le cartografie WMS, anche KML, questo non ce lo permette solamente google maps, ci permette di interfacciarci con le librerie di open street map, mentre come dicevo appunto map server ci può garantire la gestione autonoma e personale delle nostre cartografie. Vediamo invece quali sono state le applicazioni che sono state appunto selezionate per questo concorso, per questo riconoscimento che abbiamo ricevuto quest'oggi e nello specifico sono open natura, geo emilia romagna e roma prg. Premetto che queste applicazioni sono disponibili attraverso il market di android quindi sono liberamente scaricabili, anzi invito l'utenza che ha assistito a questo convegno a prenderne visione eventualmente a scaricarle e a valutarne l'utilizzo e sono appunto open natura che è un'applicazione che ci permette all'utente di poter visualizzare i percorsi naturalistici della regione Lombardia e nello specifico questa applicazione utilizza i dati liberi che sono resi disponibili dalla regione Lombardia, nello specifico permette di poter consultare mediante tra l'altro geolocalizzazione quelli che sono gli agriturismi che sono presenti al momento solo nella provincia di Lodi però prevediamo a breve termine di poter estendere questo servizio a tutta la regione Lombardia, quindi quelli che sono gli agriturismi, le aziende agricole, permette inoltre di visualizzare quali sono gli eventi naturalistici che si svolgeranno nel corso dell'anno corrente ed inoltre permette la visualizzazione su un livello cartografico di tipo KML dei parchi naturali dell'intera regione Lombardia, nello specifico per i parchi naturali già la funzionalità è fornita per l'intera regione. Geo Emilia Romagna è invece un'altra applicazione che abbiamo sviluppato basata stavolta sulle librerie Open Layers, la precedente era basata sulle librerie JavaScript di Google Maps che ci permette invece di visualizzare le cartografie WMS rese disponibili anche queste sotto licenza Open dalla regione Emilia Romagna, nello specifico sono disponibili varie cartografie tra cui carte tecniche regionali, ortofoto, varie carte geologiche, le carte relative all'uso del suolo e una piccola curiosità la carta IGM del 1893, effettivamente è una curiosità ma l'utente può anche essere interessato ad una consultazione che potremmo definire di carattere storico. Per quanto riguarda invece Roma PRG questa è la terza applicazione che stiamo passando appunto in rassegna, è un'applicazione sempre sviluppata per Android che permette invece la visualizzazione sotto formato KML su layer Google Maps di base, dei piani regolatori dei principali comuni della provincia di Roma e questo sicuramente rende onore alla provincia di Roma che è stata tra le prime province della nostra nazione a rendere disponibile questa tipologia di dati sotto licenza Open. Chiaramente noi siamo un'azienda di recentissima formazione quindi abbiamo diversi progetti in sospeso, già abbiamo realizzato tanto però dobbiamo ancora cercare di specializzarci su determinati punti e soprattutto cercare di evolvere ulteriormente le applicazioni che abbiamo sviluppato sotto determinati punti di vista, in particolar modo in un futuro prossimo renderemo disponibile delle operazioni di editing all'utente direttamente dal dispositivo mobile ed inoltre aspetto che non riteniamo insomma poco importante, quello di poter integrare le applicazioni con i principali social network in modo da poter condividere determinate informazioni tra i vari utenti che utilizzano l'applicazione attraverso social network che possono essere Facebook, Twitter o altri. Diciamo che ho concluso almeno per quanto riguardava questa rassegna, spero sia stato interessante. Non so quanti di voi abbiano avuto mai a che fare con le valutazioni ambientali strategiche all'interno della progettazione di un'opera pubblica, uno dei nostri progetti che stiamo portando avanti è quello anche di fornire tramite una piattaforma mobile la fase di consultazione con i cittadini dell'intervento dell'opera pubblica. Quindi attraverso questo tipo di strumenti si può portare avanti la fase della valutazione ambientale strategica facendo partecipare i cittadini con i geofeedback che tornano poi indietro direttamente all'ente e quindi si può portare avanti un processo di questo tipo. L'ultimissima cosa per concludere riguardo l'editing da mobile. Chiaramente è un progetto che è in fase di sperimentazione quindi dobbiamo valutare giustamente quali possono essere le problematiche che possono intercorrere relativamente a questa parte di progetto. Più che altro pensiamo che molto probabilmente questa tipologia di funzionalità potrebbe essere resa disponibile per dispositivi tablet chiaramente più accessibili per questa tipologia di operazioni. Probabilmente potrebbe risultare più difficile per smartphone e dare delle dimensioni. Questo lo valuteremo e vedremo in un futuro prossimo quale obiettivo raggiungere. Grazie.